Un altro successo per la regione Campania. Lo ha definito così Vincenzo De Luca l'accordo di programma sull'intesa per i fondi coesione Campania, firmato lo scorso 17 settembre a Roma con il premier Giorgia Meloni. Nella sede della regione Campania, via Santa Lucia, il governatore ha voluto chiarire quali saranno gli interventi in programma che andranno dalla sanità alle opere pubbliche, passando poi per quelli sull'impiantistica sportiva, fino a quelli riguardanti le aree verdi, i parchi, i giardini, ma anche interventi a favore delle zone sismiche, e per ridurre ed eliminare l'inquinamento in molte zone della regione. Ai nostri microfoni lo stesso De Luca Soddisfatto chiarisce come saranno investiti i fondi. Sblocchiamo tutti i fondi che riguardano la cultura, lo spettacolo, i fondi che riguardano l'ambiente e il territorio, i sistemi idrici e i problemi ambientali. Sblocchiamo i fondi per la viabilità che riguardano tutti i comuni della regione e i fondi per l'assetto idrogeologico, i fondi relativi alle famiglie, l'aiuto per il trasporto scolastico gratuito. Firmiamo a breve l'accordo, anche la legge per le famiglie, bonus per lo sport, scuola viva, cioè mettiamo in movimento tutta l'economia della nostra regione. Dobbiamo essere bravi ad accelerare i tempi. Tutti gli ospedali devono prevedere il terzo turno, si deve lavorare anche di notte. D'altra parte a Berlino, questo è normale, Berlino è una città un po' fredda. Qui tutto sommato, tranne un po' gennaio quando capita, ma con il cambiamento climatico arriveremo a farci i bagni pure a gennaio. Si può lavorare tranquillamente quando ovviamente sono cantieri non in area densamente abitata.